La location Garden Piccolo Mondo si presta chiaramente per tutte le vostre cerimonie quindi in primis chiaramente il battesimo, le cresi comunioni, le feste di laurea e specialmente anche per i matrimoni dove abbiamo anche per fare anche a dormire prima notte sposi un vecchio fienile ristrutturato con un adiacente una piscina e degli appartamenti da poter ospitare anche i loro ospiti. Questo l'abbiamo creato appositamente per la versione diciamo estiva che in estate si sta in questa terrazza in caso di bel tempo e quindi si gusta diciamo tutta la frescura dell'estate e arrivando l'aria dalle mare praticamente e dalla campagna del nostro territorio. Proponiamo praticamente la nostra cucina sempre tipica, creativa del territorio e quindi quest'anno come piatto della Risto Culture cioè con l'associazione Ristoratori della provincia di Pesaro Urbino aderente alla Confe Commercio tramite il comune e anche tramite il comune di Pesaro e abbiamo fatto questo piatto tipico che sarebbe la pasticciata alla Monbaroccese con le verdure di campagna. La piscina ce l'abbiamo a disposizione privata quindi su prenotazione si possono creare feste di compleanno, di laurea oppure come si voglia. diciamo. È chiaro che il piccolo mondo si caratterizza da 38 anni praticamente con i piatti colonne portanti che sono praticamente tagliatelle, gnocchi, strozza preti fatte dalle nostre sfolline rigorosamente come una volta praticamente rivisitate con delle salse attuali, con le verdure anche oppure con la passatella ancora fonduta di formaggio e tartufo, cavallo di battaglia comunque è sempre il piatto numero uno gli agnolotti verdi al fumè che sono ripieni di carne e spinaci al fumè affumicati sono deliziosi oppure va molto anche adesso in estate il tortellone vegetariano, la tagliatella o il tagliolino col guanciale di maiale, dei nostri maiali pomodoro fresco basilico e pinoli e poi ecco come dicevo prima la pasticciata, la pasticciata è un piatto di ristoculture quindi piatto tipico proprio di Montbaroccio e della provincia di Pesolo Urbino con le verdure di campo, poi anche va molto il baccalà rostosegreto con le patate, il baccalà rostosegreto con le patate che è stato rivisitato un attimino perché mi ricordo i vecchi tempi quando la nonna lo cucinava nella ruola del camino e quindi mi è rimasto veramente impresso, comunque abbiamo vinto due o tre premi con il baccalà rostosegreto, ci trovate qua a Montbaroccio e praticamente dal mercoledì alla domenica sempre alla sera e a pranzo sabato e domenica su Pranotazione.